Sabato 24 marzo 2018, nuovo appuntamento con il podcast di parlarealmicrofono.it Io sono Patrick Facciolo, speaker radio televisivo, giornalista e formatore e voglio cominciare raccontandovi una novità importante che ci riguarda e che vi riguarda riguarda questo podcast perché da ieri è attivo il canale Telegram di questo podcast che si chiama Public Speaking Podcast Italia, quindi lo trovate su Telegram Telegram è un'app che vi permette di scambiare messaggi istantanei e ha però la possibilità di creare dei canali a tema e quindi ne ho creato uno dedicato proprio al Public Speaking perché seguirlo, perché iscriversi a questo canale, perché tutti i giorni cercherò di darvi delle pillole legate al mondo della comunicazione, quindi io ci provo un po' di giorni alla settimana perlomeno tutti i giorni, sarebbe bellissimo riuscire però è quello che intanto mi do come proposito quindi vi consiglio di scaricare Telegram se già non ce l'avete quando andate a cercare in alto tra i nomi dei contatti basterà che digitiate Public Speaking Podcast, tre parole divise o anche soltanto Public Speaking, ho visto che vi esce fuori proprio la scritta Public Speaking Podcast Italia, vedete anche la mia foto e quindi dovreste riconoscerla quindi se tutti i giorni vi fa piacere o comunque più volte alla settimana nei miei propositi vi fa piacere ricevere delle note vocali mie con degli aggiornamenti sul mondo della comunicazione fatelo perché è davvero curioso, io lo trovo molto divertente tra l'altro mi fa piacere avere già decine di persone che stanno seguendo questo canale arriviamo però a oggi, arriviamo al titolo della puntata di oggi l'avete visto dal titolo, immagino se siete qui ad ascoltare questa puntata oggi parliamo dei discorsi di insediamento dei presidenti di Camera e Senato che sono stati eletti proprio nella giornata di oggi io sono andato a scaricarmi questi discorsi da internet, me li sono stampati, me li sono letti li avevo già ascoltati questa mattina alla televisione presidente del Senato è Maria Elisabetta Alberti Casellati presidente della Camera dei Deputati è Roberto Fico vorrei fare una comparazione di questi due discorsi prendere tre punti, uno iniziale, uno più o meno centrale e poi la parte finale di ciascuno di questi due discorsi e fare un po' di commenti proprio sullo stile e sul linguaggio fondamentalmente sul linguaggio di questi due discorsi siccome ogni volta in cui parlo di politica faccio prima di tutto un disclaimer, una precisazione quando parlo di politica lo faccio sempre relativamente a questioni tecniche quindi comunque si chiamino queste persone a qualunque partito appartengano queste persone quindi il presidente del Senato della Repubblica il presidente della Camera dei Deputati le mie valutazioni sono sempre di carattere tecnico quindi si riferiscono sempre a quello che c'è nel discorso a quello che è stato scritto nei loro discorsi e direi le stesse cose chiunque si fossero quindi anche se fossero di altri partiti quindi non c'è nessuna connotazione politica in quello che sto dicendo e anzi sono molto convinto che all'interno degli stessi partiti altri politici avrebbero fatto altri tipi di discorsi quindi credo davvero che conti molto come posso dire l'individualità del politico volta per volta del politico o comunque dei consulenti o comunque delle persone che lavorano con loro eventualmente alla stesura dei discorsi voglio partire con il presidente del Senato anzi la presidente del Senato che è Maria Elisabetta Alberti Casellati e vorrei cominciare proprio con l'incipit con l'apertura di questo discorso che comincia così care senatrici, cari senatori nell'assumere per vostra volontà questo altissimo incarico voglio in primo luogo inviare un riconoscente saluto al presidente della Repubblica che rappresenta, quale capo dello Stato l'unità nazionale allora cominciamo da questo che cosa mi ha colpito di questo passaggio mi ha colpito, devo dire la verità non in positivo il fatto che l'apertura di questo discorso sia stata fatta con una subordinata quindi care senatrici, cari senatori nell'assumere per vostra volontà questo altissimo incarico voglio in primo luogo la subordinata in apertura in un discorso parlato dal mio punto di vista appesantisce molto il discorso stesso lo appesantisce molto perché costringe l'ascoltatore ad accumulare una serie di informazioni prima di arrivare alla principale alla frase principale cioè quella che davvero manifesta la parte più compiuta diciamo così del pensiero che intendiamo esprimere quindi mentre nel testo scritto partire con una subordinata mi permette comunque di recuperarne il senso subito dopo quindi se io inserisco in un testo scritto la subordinata la principale un po' di parole dopo l'inizio posso andarmela a recuperare ricostruirmi il senso della frase perché parliamo sempre di testi ripetibili quando parliamo di testi scritti nel discorso parlato questa cosa è un po' impegnativa quindi partire con una subordinata secondo me dal mio punto di vista affatica un po' l'ascoltatore può affaticare un po' l'ascoltatore in più dobbiamo sempre farci una domanda quando facciamo un discorso in pubblico parlando lo diremmo così la risposta forse è no cioè la stessa cosa la potremmo dire invertendo l'ordine della frase quindi voglio in primo luogo inviare un saluto un riconoscente saluto al presidente della repubblica nell'assumere per vostra volontà questo altissimo incarico quindi spostando la subordinata dopo detto che comunque non userei queste parole ovviamente dico tutto questo da formatore quindi lo dico secondo la mia esperienza e secondo quello che avrei consigliato in un contesto di comunicazione aziendale quindi mi rendo conto che poi all'interno di un'istituzione il linguaggio debba e possa essere diverso ma questo secondo me non dovrebbe essere un alibi ad allontanarci troppo dal modo in cui parliamo tutti i giorni dal modo in cui parliamo quotidianamente perché nel nostro modo di comunicare quotidiano verbalmente probabilmente non useremmo questo ordine delle informazioni cioè quello di mettere la subordinata prima e la principale poi e poi un'altra cosa importante questa cosa del voglio in primo luogo inviare un riconoscente saluto al presidente della repubblica ma perché un riconoscente saluto io questo lo racconto all'interno del mio primo libro crea immagini con le parole dove parlo moltissimo di linguaggio c'è un paragrafo proprio dedicato all'ordine degli aggettivi perché un riconoscente saluto e non un saluto riconoscente cioè quando io parlo quando io parlo nelle situazioni in cui parlo alle persone dico voglio dare un riconoscente saluto o voglio dare un saluto riconoscente permesso che io non direi nessuna delle due cose ma in linea generale questo aggettivo lo sentiamo molto meglio se il saluto è riconoscente non un riconoscente saluto il riconoscente saluto fa parte delle caratteristiche della lingua scritta nella lingua scritta questo modo di comunicare funziona ancora si utilizza ancora nella lingua parlata meno allora dato che la destinazione di questo testo è per la lingua parlata io lo trovo molto alto cioè dire invio un riconoscente saluto al presidente della repubblica rende molto alto questo discorso che ci sta nel senso che ciascuno può fare del proprio discorso quello che vuole bisogna capire quanto l'intenzione del comunicatore sia effettivamente in linea con la destinazione di questo contenuto cioè la destinazione di questo contenuto è una comunicazione di tipo orale in quanto comunicazione orale io insisto molto sul fatto che l'oralità venga mantenuta nella direzione dell'oralità quindi se io scrivo un testo per la parola parlata è importante questo testo nasca nella prospettiva della parola parlata e non nella prospettiva della parola scritta quindi questa apertura io la trovo un po' impegnativa ecco quindi questo è un po' la così il primo aspetto che volevo sottolineare però in parallelo mi piacerebbe andare sull'apertura invece di Roberto Fico alla Camera dei Deputati come comincia il discorso di Roberto Fico comincia così signore deputate signori deputati sono emozionato nel rivolgermi oggi in quest'aula a tutti voi e a tutti i cittadini vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato con un incarico di così alta responsabilità allora qui che cosa abbiamo di diverso beh intanto una cosa fondamentale la descrizione di uno stato interno quindi sono emozionato sono io sono emozionato nel rivolgermi oggi attenzione perché qui abbiamo il processo inverso non è nel rivolgermi oggi sono emozionato come era prima nell'assumere per vostra volontà voglio inviare un saluto prima era così il discorso della Presidente del Senato era così il discorso del Presidente della Camera è proprio organizzato al contrario quindi io sono emozionato nel rivolgermi oggi attenzione sempre a questi infiniti sostantivati perché l'infinito sostantivato fa meno parte della lingua parlata nel rivolgermi è qualcosa che se lo pensiamo nei contesti colloquiali nei contesti in cui parliamo con le persone usiamo poco l'infinito sostantivato allora la mia domanda è sempre quella perché usare l'infinito sostantivato in un discorso se quando parliamo normalmente non usiamo gli infiniti sostantivati o li usiamo poco perché aprire con degli infiniti sostantivati un discorso punto di domanda è una domanda ovviamente che faccio però credo che abbia un suo senso quindi sono emozionato nel rivolgermi oggi in quest'aula a tutti voi e a tutti i cittadini quindi dicevo c'è questo stato interno mi sento emozionato sono emozionato lo dico quindi c'è qualcosa che secondo me esprime molto calore mentre prima nel discorso della Presidente del Senato io avvertivo questa solennità istituzionale molto forte qui avverto un calore umano che passa proprio dalle primissime parole sono emozionato nel rivolgermi oggi in quest'aula e attenzione perché qui c'è una parola importante aula che è una parola che evoca un'immagine ecco che ritorna questo tema di crea immagini con le parole l'idea che anziché usare un concetto astratto io vada a usare una parola concreta quindi quando io evoco l'aula posso immaginare l'aula e questo è molto importante è diverso dire aula dal dire questo consesso di deputati che sono assisi accanto a me si potrebbe dire in mille modi questa cosa però si dice aula si chiama aula in italiano e l'aula e credo che sia molto forte molto importante questo tipo di incipit di apertura andiamo torniamo alla presidente del senato e andiamo alla parte centrale ho scelto un paragrafo che dice questo il tema delle riforme sarà quindi centrale vedrà le forze politiche chiamate a dare segnali precisi investendo il tema dell'assetto delle istituzioni a tutti i livelli così come non potrà essere ignorato il completamento del riassetto delle autonomie locali l'epoca della globalizzazione offre opportunità e conoscenza portando con sé allo stesso tempo il rischio di nuove marginalizzazioni un rischio che non può essere ignorato né sottovalutato a partire dall'economia reale a partire dal lavoro sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione soprattutto tra i giovani in particolare nel mezzogiorno allora di tutto questo paragrafo devo dire che la frase che mi sembra più efficace è l'ultima questa che dice sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione soprattutto tra i giovani in particolare nel mezzogiorno direi che è la cosa che ho capito di più la prima parte di questo paragrafo però è molto complicata è molto difficile il tema delle riforme ve lo rileggo il tema delle riforme sarà quindi centrale vedrà le forze politiche chiamate a dare segnali precisi investendo il tema dell'assetto delle istituzioni a tutti i livelli che cosa vuol dire questa frase è un po' faticoso rispondere a questa domanda perché ha sicuramente tanti significati ma è molto difficile coglierli messa giù così il tema delle riforme sarà quindi centrale com'è che potremmo dirla questa frase perché come fa un tema a essere centrale nella realtà delle cose quando io descrivo la realtà delle cose come fa un tema a essere centrale è un qualche modo una forma di metafora dire il tema sarà quindi centrale ci aiuta o forse potremmo dirlo in un altro modo dice il tema delle riforme sarà quindi centrale vedrà le forze politiche quindi il tema vedrà le forze politiche chiamate a dare segnali ma un tema può vedere qualcosa? cioè un tema può vedere le forze politiche chiamate a dare segnali precisi? no ci rendiamo conto che questa formulazione è molto complicata un tema non può vedere le forze politiche chiamate ma saranno le forze politiche chiamate a dare segnali precisi sulle riforme quindi anche qui perché partire con il tema delle riforme sarà quindi centrale vedrà le forze politiche chiamate a dare segnali no partiamo dai soggetti delle frasi cioè le forze politiche saranno chiamate a dare segnali precisi sul tema delle riforme che sarà centrale vedete come suona in modo completamente diverso io ho soltanto cambiato l'ordine di queste informazioni e soltanto cambiando l'ordine delle informazioni di questa frase diventa molto più chiara diventa molto più chiara guardate certe volte io mi rendo conto poi che stiamo parlando di discorsi che nascono magari in una notte perché le dinamiche con cui sono stati eletti questi presidenti lo abbiamo visto hanno portato all'elezione davvero in pochissimo tempo quindi questi sono discorsi che sono nati probabilmente in pochissimi minuti io mi rendo conto di questo e quindi non mi sento di dare un giudizio di valore su questi discorsi mi sento però di fare comunque delle considerazioni tecniche perché dal punto di vista del linguaggio potevano essere più lineari e badate bene che non sempre in particolare però parlo di questo discorso del senato perché quello della camera mi sembra e ve l'ho già fatto capire dall'apertura mi sembra più chiaro più nitido complessivamente dicevo badate che non è una consuetudine questa se noi andiamo a prendere il discorso di insediamento del presidente Mattarella su cui peraltro ho fatto una puntata di radiolinguaggio tra l'altro con una ricercatrice del CNR di linguistica computazionale che ha analizzato con me il discorso eravamo di fronte a un discorso molto moderno con dei periodi con delle frasi molto corte comprensibili chiare delle parole molto semplici da capire quindi non è non ci basta come alibi l'idea di dire ma sì vabbè ma il politichese no perché comunque noi in politica assistiamo a discorsi più chiari e certe volte meno chiari quindi è giusto ogni tanto fare una foto e qui sto usando una metafora fare una foto a questi discorsi e vedere dove questi discorsi dal mio punto di vista di formatore di giornalista di comunicatore diciamo possono avere delle aree di miglioramento torniamo a Roberto Fico quindi torniamo alla Camera dei Deputati e riguardiamo la parte centrale di questo discorso allora andiamo a questo passaggio che mi sembra interessante due passaggi centrali vi leggo gli squilibri che in questi anni si sono creati vanno riequilibrati per questo è ora prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura questa è molto chiara questa frase il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura poi dice sono profondamente convinto e attenzione qui a questo continuo uso della prima persona quindi un'espressione di uno stato soggettivo di una convinzione soggettiva questo è molto importante perché dà calore ai discorsi l'espressione della soggettività sono profondamente convinto che si debbano e si possano razionalizzare i costi della camera dei deputati senza per questo tagliare i costi della democrazia sul razionalizzare i costi della camera dei deputati credo che sia molto chiaro sul tagliare i costi della democrazia qui forse un esempio avrebbe aiutato cosa vuol dire tagliare i costi della democrazia è un concetto un po' complicato si può fare un esempio dopo una frase di questo genere comunque mi sembra complessivamente nitido chiaro il concetto benché si potesse andare un po' più a fondo qualcosa è stato fatto ma c'è ancora tantissimo da fare questo mi piace molto qualcosa è stato fatto l'utilizzo della parola cosa che è una parola che può contenere tantissimo è vero che è molto generica ma allo stesso tempo è vero che la parola cosa ci permette di utilizzare un registro linguistico molto colloquiale ci permette di farci capire qualcosa è stato fatto se io dico qualcosa è stato fatto tutti lo capiamo se io dico alcune politiche pubbliche nella legislatura precedente sono state realizzate e messe in atto sto dicendo qualcosa è stato fatto ma lo sto dicendo in modo che risulti che sia in modo da risultare incomprensibile a tantissime persone e questo è un limite della comunicazione quindi bene secondo me dire qualcosa è stato fatto è chiaro è nitido è essenziale e aggiunge il presidente della camera ma c'è ancora tantissimo da fare molto nitido anche questo ancora passaggio centrale che mi ha colpito molto dobbiamo aprire ancora di più quest'aula ai cittadini attenzione è bella questa cosa di nuovo l'aula come parola evocativa di un'immagine dobbiamo aprire ancora di più quest'aula ai cittadini e poi la spiega questa cosa per spiegare bene se si tratta di una metafora oppure di una cosa reale dice sia in senso fisico sia valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti dalla costituzione allora quando dice sia in senso fisico capiamo che si dice che l'aula deve essere proprio aperta ai cittadini cioè che i cittadini ci possano entrare fisicamente e questo secondo me è molto nitido molto molto efficace quando invece dice sia valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti dalla costituzione ecco che ci perdiamo un po' nell'astrattese di nuovo ma attenzione quindi abbiamo un passaggio sull'astratto valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti dalla costituzione e subito però un esempio concreto va avanti e dice per esempio attraverso la previsione di tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare ecco vedete come c'è un passaggio astratto concreto quindi si dice valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti dalla costituzione uno potrebbe chiedersi cosa vuol dire te lo spiega attraverso la previsione di tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare cioè tradotto significa che si vogliono dare almeno la proposta che viene fatta è quella di dare tempi certi alle leggi che nascono proprio dall'iniziativa popolare dalle raccolte firme tra la gente però attenzione perché si poteva anche dire proprio così cioè si poteva dire che ci sono tante proposte di iniziativa popolare firmate da migliaia di cittadini che stanno chiuse nei cassetti nei cassetti delle istituzioni perché questo poi è il senso del messaggio e dare tempi certi per approvare per discutere perlomeno queste leggi di iniziativa popolare è molto importante cioè si poteva non c'è vedete quello che voglio dire io che non c'è nessuna buona ragione per non dirlo così è come posso dire io poi ho un taglio molto radiofonico su questo e quindi tendo sempre a tradurre le cose in maniera forse troppo semplice ma è quello che veramente il comunicatore vuole dire allora io dico sempre questo se il comunicatore mette in comune delle cose è importante che le metta in comune per tutti qui viene fatto questo quindi io sono molto contento di questo discorso perché c'è tutto questo credo che lavorandoci un po' di più avendo un po' più tempo a disposizione si possa fare ancora di più questo passaggio quindi si possa scendere ancora di più nel dettaglio e modificare ancora qualcosa di queste frasi per renderle ancora più alla portata di tutti perché quando io dico la previsione di tempi certi forse è molto più efficace dire vogliamo prevedere dei tempi certi non la previsione di tempi certi perché la previsione è la previsione come posso dire è un sostantivo è qualcosa che mi evoca non so le previsioni le previsioni sono le previsioni del tempo le previsioni dell'economia di come andrà l'economia ma la previsione di tempi certi è una formula molto difficile da capire vogliamo prevedere tempi certi ecco anche questo credo che sia molto più caldo però la direzione mi sembra ripeto quella giusta sempre da un punto di vista tecnico arriviamo alla fine qui abbiamo su tutti e due i discorsi quella che in gergo si chiama la call to action la chiamata all'azione qui siamo veramente in linea con quello che il public speaking suggerisce solitamente che il buon senso più che il public speaking il buon senso suggerisce un discorso cioè ti argomento la mia posizione e alla fine ti chiamo a un'azione e questo lo ritroviamo sia nel discorso di Maria Elisabetta Alberti Casellati sia nel discorso di Roberto Fico allora la chiusura dice questo senatrice e senatori parliamo della senatrice della presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dice senatrice e senatori il capo dello stato nel suo messaggio di fine anno pochi mesi fa ha detto che le elezioni aprono come sempre una pagina bianca e che a scriverla sono gli elettori e successivamente i partiti e il parlamento questa è una frase breve chiara secondo me c'è una metafora perché quando io dico le elezioni aprono una pagina bianca sta usando una metafora facciamo attenzione a queste metafore perché non sono chiare a tutti perché se io vado in mezzo alla strada e dico che le elezioni aprono una pagina bianca e chiedo a una persona cosa vuol dire che le elezioni aprono una pagina bianca boh a me verrebbe da dire boh quindi attenzione perché le metafore vanno anche spiegate altrimenti sono belle sono efficaci possono evocare immagini ma se l'immagine poi non mi spiega il concetto mi servono a poco detto questo tra l'altro parentesi delle metafore ne parlo all'interno del mio secondo libro quindi vi rimando un po' di bibliografia poi magari la pubblico anche in coda a questo podcast sia su iTunes sia su YouTube così avete il link al libro e dicevo quindi però è molto chiara la frase quindi al di là della metafora che forse si poteva spiegare meglio la frase è breve ed è chiara senatrice e senatori il capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno pochi mesi fa ha detto che le elezioni aprono come sempre una pagina bianca e che a scriverla sono gli elettori e successivamente i partiti e il Parlamento a loro ha ricordato sono affidate le nostre speranze e le nostre attese poi ritorna a parlare in prima persona la Presidente del Senato e dice colleghi tutti facciamo che queste ecco la call to action colleghi tutti facciamo che queste speranze e queste attese che gli elettori ci hanno affidato non siano deluse e che trovino finalmente una risposta adeguata ho fiducia che non mancherà il nostro intenso lavoro e il nostro impegno quotidiano certamente non mancherà il mio viva il Senato viva l'Italia mi piace molto questa chiusura mi piace molto perché è chiara ha dei periodi molto brevi le subordinate non sono tantissime e c'è l'importanza di una call to action non anacquata quindi una call to action chiara una chiamata all'azione chiara sul finale del discorso che non si perde in ulteriori divagazioni anzi in divagazioni ulteriori visto che prima abbiamo parlato della distinzione fra la lingua scritta e la lingua parlata allora passiamo alla chiusura di Roberto Fico del discorso del presidente della camera anche questo mi è piaciuto ve lo leggo per questo motivo voglio concludere vedete come ritorna quest'uso della prima persona quindi c'è sempre questo calore passato dall'uso della prima persona più il verbo per questo motivo voglio concludere io voglio concludere con l'auspicio che in quest'aula ciascuno di noi porti avanti il proprio impegno con la continua tensione al miglioramento andando a superare persino l'espressione migliore di se stesso continua tensione al miglioramento questa è un po' faticosa un passaggio un po' faticoso quindi si potrebbe dire con l'auspicio che in quest'aula ciascuno di noi porti avanti il proprio impegno continuando a migliorarsi per esempio mi viene a dire più che la continua tensione al miglioramento sono sempre questi concetti che sono un po' come posso dire sono un po' difficili la tensione al miglioramento sono queste cose che non diciamo mai per davvero cioè le diciamo quando siamo in contesti appunto più formali ma è difficile dirli quando comunichiamo con naturalezza ecco io mi chiedo sempre perché non dobbiamo comunicare con naturalezza anche quando siamo in un contesto istituzionale questa è sempre un po' la mia domanda che faccio un po' per deformazione professionale mia dice sempre il presidente della camera perché sono fermamente convinto che la bontà di ciò che possiamo realizzare sia sempre frutto del valore umano che mettiamo nelle nostre azioni auguri di buon lavoro a tutti noi mi piace molto questa chiusura perché ritorna a riagganciarsi all'apertura cioè ritorna a questa idea della convinzione interna quindi comincia Roberto Fico dicendo sono emozionato e conclude parlando di valori umani cioè comincia esprimendo qualcosa che ha strettamente a che vedere con uno stato suo interno e conclude con qualcosa che riguarda uno stato suo interno cioè l'importanza dei valori e credo che sia molto bello perché è molto personale questo tipo di passaggio e quando dico molto bello non lo dico politicamente parlando lo dico proprio dal punto di vista della comunicazione perché è un messaggio secondo me caldo quando noi usiamo queste parole ammesso ovviamente che dobbiamo sentire veramente le cose che stiamo dicendo se usiamo queste parole qui stiamo scaldando il discorso cioè stiamo diminuendo i gradi di separazione dall'altro non li stiamo aumentando ci stiamo avvicinando al nostro pubblico e poi questi auguri di buon lavoro a tutti noi c'è un po' questo abbraccio ideale quindi non è auguri di lavoro a tutti voi ma a tutti noi cioè anche lui ha bisogno di questi auguri e anche lui si dà l'augurio dentro questa chiamata all'azione dentro questa call to action quindi questo è un po' questa è un po' la sintesi va bene della così di questi due discorsi parlato tantissimo una mezz'oretta quasi sono molto contento però di aver fatto questa puntata perché ci ha permesso di rivedere un po' le così queste 14 puntate di podcast di rivedere un po' le cose che ho scritto nei miei libri in questi anni di rivedere un po' la mia così tutte le mie interpretazioni letture visioni della comunicazione e questo ovviamente riguarda un po' tutte le mie attività di questi anni quelle di giornalista di formatore dove ho avuto tanto a che fare ho avuto tanto a che fare nel mio lavoro con il linguaggio quindi riguarda un po' delle sì delle cose che ho anche studiato e approfondito ma riguarda anche così delle sensazioni pratiche proprio esperienziali che arrivano dal mio lavoro quindi quando io sento una frase non lo so ho una come vi posso dire è un po' una specie di una deformazione professionale come vi dicevo è un po' come se io avvertissi che quella frase si potrebbe dire in un altro modo e forse in quell'altro modo potrebbe essere un po' più efficace si potrebbe capire un po' di più ecco ho un po' queste sensazioni le ho volute condividere con voi all'interno di questa puntata e spero che sia stato utile a tutti nel complesso complessivamente ho apprezzato devo dire di più il discorso di insediamento del presidente della camera perché mi è sembrato più semplice più immediato più caldo ho trovato un po' più astratto e un po' più alto quello della presidente del senato voglio dirvi anche un'altra cosa perché questo è importante perché poi quando ci siamo noi su quei palchi quando li dobbiamo preparare noi questi discorsi è insomma è facile da cui prendere fare mezz'ora di discorso frase per frase parola per parola ma io questo l'avrei fatto così poi io dico sempre su quel palco portiamo sempre la nostra miglior versione possibile cioè quello che riusciamo a fare date le circostanze quindi è importante secondo me anche avere come posso dire qui uso una metafora ma ve la spiego anche una sticella che non sia troppo alta cioè non vorrei che adesso questa attenzione così analitica alle parole ci porti poi a dover stare lì con la lente di ingrandimento anche questa è una metafora con la lente di ingrandimento a vedere parola per parola il nostro discorso in linea di massima mi interessava farvi passare la mia visione cioè come una frase può essere più efficace perché arrivi a tutti poi può capitare la frase più astratta la frase meno concreta la frase un po' più istituzionale non è questo il punto è avere una direzione è avere un senso di marcia dei nostri discorsi e credo che questa puntata ci abbia aiutato perlomeno spero vi abbia aiutato a illuminare quante metafore illuminare un po' di più va bene questa direzione questa strada quindi quando io scrivo un discorso penso a come arrivare in maniera più veloce più che veloce di come arrivare in maniera più diretta più chiara alle persone che mi stanno ascoltando sempre con lo scopo di mettere in comune delle cose quindi comunicare e questo l'abbiamo detto veramente tantissime volte vi ricordo la mail se volete scrivermi podcast chiocciolaparlarealmicrofono.it vi ricordo di iscrivervi al canale Public Speaking Podcast Italia su Telegram se volete sentire le mie note giornaliere le mie note vocali giornaliere e per quanto riguarda i miei libri che vi ho citato sotto trovate sotto questi podcast trovate poi le indicazioni sui libri mentre per chi ci sta ascoltando su Radiolinguaggio che è la web radio tematica di parlarealmicrofono.it dedicata ai temi della comunicazione ci sono in onda molto spesso e gli approfondimenti proprio legati a questi libri dove potete saperne e scoprire di più l'appuntamento è per la prossima puntata da Patrick Facciolo è tutto ciao